E benvenuti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video di GTA 5 online Come avete ben visto dalla copertina e dal titolo andiamo a modificare un'altra macchina Ma prima di cominciare vi voglio dire una cosa Lo so che settimana scorsa non è uscito un video Ma non volevo portare ancora GTA Quindi ho schippato una domenica E l'abbiamo fatto quest'oggi Poi magari probabilmente non salterò più Non vi assicuro niente Però tenetevi pronti Perché o prima o dopo di Pasqua Se riuscirò a farlo uscire Bisogna vedere come riesco ad organizzarmi Dovrà uscire un video molto interessante e molto importante Tra un mesetto circa Te dai Non prima di Pasqua magari ma un mesetto la butto lì Oggi siamo qua per modificare Tanto l'avete già visto dal titolo della copertina Quindi inutile che ci perdiamo in chiacchiere La Mustang La Ford Mustang Quella vecchia Quella che piace a me soprattutto Ci ficchiamo dentro allo Santos Custom Vi dico solamente una piccola chicca Prima di registrare questo video Ho rifatto questa intro Perché è suonato da LS Essendo che questa macchina è di quel DLC Non me la fa modificare Ripariamo armature 60% Mettiamo sempre quella Freni Li maxiamo a livello incredibile Paraurti Anteriore Abbiamo colore 1 Wow Mamma mia che modifiche Wow Ehm Lo mettiamo colore 2 stavolta Così per cambiare un po' La macchina Se Colore 2 Liscio Che non cambia Una min Cos'è che cambia? Ah C'ha i fari Mi piacciono i fari a me Lo mettiamo Colore 2 Anche questo Vediamo poi Che colori metterci Motore Blocco motore Abbè Sono sempre uguali Dai Mettiamo questo qua Cromato Colore 2 No Così c'ha lo mettiamo Colore 1 Perché lo voglio tenere Colore arancione In questo caso Filtri dell'aria Abbè Sono sempre quelli Non è che ci cambia molto La vita Cos'è questo? Col filtro laterale Ah Bello Cambia Vecolo Urqua Boia vacca Cromato Satinato Nero Satinato No mettiamo No 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 Nero Deciso Nero Barra 2 Ma questo mi fanno Allora In sta macchina Non gliela metto Perché La voglio tenere Più stock Possibile Essendo che mi piace Sta macchina In generale Regolazione Motore Motore Al massimo Ovviamente Intercooler Vabbè Qua si vede poco e niente Quindi Migliora qualcosa? No Davanti si vede No E quindi non lo mettiamo E' inutile che lo metta Marmitte Vediamo Allora queste sono più corte E non mi piacciono Ecco Partiamo da questo presupposto Poi abbiamo le big bore Che tanto di big bore Non mi sembra Le dritte Che sono più centrali Che ha il suo perché Da gara Laterali Questo nome che non so pronunciare Che sono laterali quadrate E in titanio Laterali Allora Per non esagerare Mi sa che metterò queste qua Laterali Ma anche quelle dritte Centrali Non mi dispiaciono Queste qua Di big bore Non c'hanno niente Mettiamo quelle da gare Da gara Anche se Quelle laterali Non mi dispiaciono Ve lo dico Parafanghi Arcate La vogliamo fare Più pompata O la voglio tenere più classica Come piace a me questa macchina Anche se le arcate Ingrossano la macchina Quindi Sarebbe interessante Però visto che non c'è Il distanzialino Ti dico che Per questa macchina Passo e vado avanti Griglia Rimozione griglia Bella griglia Che abbiamo rimosso Griglia Verticale Stemma griglia Lo stemma Non c'è Bello Che bello questo gioco La griglia Non la tocchiamo Lasciamo questa Copri Fari Ok Colore 1 Colore 2 Questo Ehm Pfff No Anche no Ah questo qua Mi Intriga Ma Come vi ho detto Voglio tenere la più stock possibile Quindi la lasciamo così Cofani Ganci Non li vogliamo Assolutamente Cofani Allora Qualche Apertura Eh questo Mi interessa Ehm Questo Un po' di meno La presa d'aria Rialzata Ehm Non mi convince Questo Me Non lo so Mi convinceva di più Questo qua Ecco Colore 1 Perché Un colore secondario Sopra Io non Non mi piace A me come macchina Ganci Non li vogliamo Che abbiamo detto Clacson Non ci interessa Interni Me li faccio io Se no Non finiamo più Luci Allora Fari Allo xen No Essendo anche una macchina Vecchia La voglio tenere Per adesso Con i fari standard I neon Vediamo poi Se metterli Vediamo una livrea Intanto Ecco O bianche O nere Probabilmente nere Se la macchina La tengo arancione Metterò le strisce Nere Probabilmente Strisce Vabbè Da prestazioni Con la doppia striscetta Ne Sni Non troppo Troppo articolata Non mi piace Ui 14 Cazzo è bella però Cioè Farà schifo Però è bella Questa c'ha anche le strisce bianche Questa c'ha Questa da racing La racing Senza Ruggine Un'altra racing Però che cazzo sono bloccate Si bloccano con Bella 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 anche questa Questa un po' meno Cazzo Ma questa qua è bellissima Però a livello 139 DLS Ma chi ce l'ha Sto al 30 Se va bene Allora Visto che queste qua Non ce le abbiamo Ci compriamo Le strisce nere Perché la macchina Visto che non c'è Su una livrea Come È successo con l'altra macchina Che se non avete visto Andate a vedervelo Lo lascio sempre là In alto E abbiamo rivoluzionato In quell'altra macchina Vabbè andiamo avanti Feritoie Eeeh 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 Non lo so Eeeh Eeeh Babbabbà Perché ci sta Mi piace che continua Però No grazie Lasciamo stare La targa La mettiamo Assolutamente nera Perché fa pandan Con le strisce nere Verniciatura La vediamo in un secondo momento Minigonne Ecco un po' di minigonne Wow che minigonne Osti Presa d'aria Wow E dove sono le minigonne Scusi E le minigonne Dove sono Ehm Bello Bello Partiamo molto bene Alettone E questo mi piace Perché è bassino S colore 2 E carbon Ma mia Che inventiva Che c'hanno Quella rockstar Poi abbiamo Questo qua Un pochettino Più alto Da pista Che Ti dico Non mi piace Da drifting Non mi piace Eeeh Ma schippa sempre Vabbè Guarda quello sopra Non cambia Eeeh Wow Poi abbiamo Ehm Sono troppo grandi Sì vabbè Ancora un po' E patapuff Certo Certo Questo che è più grosso Di quello Non è l'ultimo O senza Che mi piace Lo splitterino Qua dietro O questo E ma dopo Al doppio Annaggia Oh Non mi piace Il doppio coso Il doppio Spoiler qua dietro Non mi piace Aderremo senza spoiler Attualmente Poi vediamo alla fine Se la rivoluzioniamo Oppure no Splitter Ah ecco vedi E no Ho sbagliato Lo splitter è qua davanti Non quello dietro E come si chiama quello dietro Avete capito prima Rimocione Spoiler basso Colore 1 Colore 2 Spoiler basso In carbon Spoiler basso Da gara Da gara Colore 2 Da gara In carbonio Ecco Forse questa è l'unica cosa Da tuning Che metto Perché Mi piace Non l'ho mai messo In nessuna macchina Qua la metto in carbon Striscia parasole Come già va detto A me Non mi piacciono Sospensioni Vediamo se si abbassa Di tanto Di poco Già che partiamo così Non si abbassa Di un cavolo Vabbè dai Noi le mettiamo E che non costano Una minghia Trasmissione Da gara A livello atomico Il turbo Il turbo Ho paura Che slitterà Come da far schifo Ma Per questa macchina Glielo mettiamo Le ruote Le vediamo In secondo momento Finestrini Full oscurati Forse è la prima Completata Io ho messo I cerchioni Arancioni Il colore E' rimasto Arancione Da come era All'inizio Come avete visto Le strisce Colore secondario Nero Questo qua In carbon Però dietro Prima avevo messo Il secondario Il problema E' che Non mi piaceva Vi faccio subito Vedere Non questo Mannaggia Diciamo che Il colore secondario Non piaceva Perché staccava Tutto Mettiamo caso Che la parte Qua dove c'è Il faro dietro Continuava Fino a qua Il nero Lo lasciamo Perché si collegava Il problema E' che Non si collega Il colore primario Mi taglia fuori La linea Ce ne faremo Una ragione Anche perché Con lo stock E' in lega E' grigio Quindi direi Che non mi piace Quindi per questo Ce la terremo Così Niente feritoie Sopra Interni Stock Senza cambiare Sedili Senza mettere Le roll bar E niente Questa è la macchina Completata Anche senza Led sotto Perché Non mi facevano Troppo impazzire Eccola qua La nostra Mustang Con questo Klaxon Che Ave Ci può stare Però Quando deve partire Non tira E' letteralmente Un chiodo Molto probabilmente Però tira Meglio dell'altra Della Mazda che abbiamo provato L'altra volta La ZR350 Probabilmente Tira di più Non credo Che puoi abbassargli Le sospensioni A sto punto Dom Grazie Vai via Veicolo Ehm E invece puoi abbassarlo Ma cosa ho cliccato E invece puoi abbassarli Però da LS Non la potevo modificare Quindi sinceramente Sta cosa Non l'ho capita Però Oh bella La campanatura Della gomma storta Bella Vediamola da così Quanto si alza E quanto si abbassa Perché io ho cliccato Ma non ho visto niente Eh Interessante Interessante Questo abbassamento Di livello Della macchina Comunque ragazzi Vi ricordo Positoli in su Iscrizione Campanellina Per oggi Concludo qua Restate sintonizzati Perché come ho detto Arriverà un video Speciale Non c'entrano gli iscritti Già ve lo spoiler Però un video Interessante E ci becchiamo Ad un prossimo video Domenica prossima Alle 12 Bella